Non ho mai visto tanta falsità politica e tanta ipocrisia politica come nell'ex sindaco di Taranto Rinaldo Melucci. Racconta soltanto chiacchiere e mente sapendo di mentire ingannando i cittadini. Ma nelle cose fatte, in quell'elenco che lui ha fatto, riqualificazione del piazzale Bestat. Io mi trovo al piazzale Bestat e c'è una situazione davvero di degrado, una pavimentazione dissestata con rischi per chi cammina. Quindi parlare di riqualificazione e vantarsi tanto di aver riqualificato quest'area è una eresia. E' un inganno perpetrato ai danni dei cittadini. Ma vogliamo farvi vedere punto, punto, pezzo, pezzo questa situazione di incredibile degrado. Incominciando per esempio dalle grate, vedete qui le grate, con praticamente i mattoni o sconnessi o addirittura saltati, inesistenti. Qui poi si sprofonda, guardate come ricurva la grata e qui altri mattoni rotti e non riparati. E proprio di fronte abbiamo la sede di uno dei movimenti, delle liste a sostegno di Melucci, Taranto Crea. Melucci ha creato il degrado, guardate qui le chiacchiere. Melucci dice di aver riqualificato l'aria, il piazzale Bestat. Che caricatura, ma andiamo avanti. Mattoni rotti, pavimentazione completamente dissestata. Guardate qui si sale e si scende, si sale e si scende. Un tombino mezzo sprofondato e sì, Melucci dice di aver riqualificato il piazzale Bestat. Ma vedete, qui proprio si rischia di cadere, guardate qui si cammina e si cade, si inciampa, vergogna. Anche qui altra area praticamente mezza dissestata, mattoni mezzi rotti, sembra quasi un mosaico, vedete? Ma Melucci dice di aver riqualificato il piazzale Bestat. Non so dove l'ha vista questa riqualificazione. Guardate qui le fioriere, diciamo, tutte rotte. Questa è una riqualificazione? Ma i cittadini di Taranto, caro Melucci, meritano di essere presi per i fondelli da te? Meritano questo i cittadini di Taranto? Spiegamelo Melucci! Melucci, questa è riqualificazione? Questa è riqualificazione del piazzale Bestat? Questa qui? Melucci, riqualificazione del piazzale Bestat? Cos'è? La panchina rotta? Ma per cortesia, stai zitto che fai più bella figura. Un tombino cementato e vedete qui il cemento sta cedendo, sta franando, tutto aperto qui. Ma io non lo so se l'ex sindaco Melucci può prendersi gioco dell'intelligenza e della dignità dei tarantini, perché non consento a nessuno che la città di Taranto sia presa per i fondelli. È assurdo! Oltretutto si autodistrugge politicamente, fa continui autogol perché racconta, narra una realtà completamente inesistente, una realtà che il cittadino poi nota, vede con i propri occhi e chiaramente va su tutte le furie. Perché, insomma, un'altra Taranto non solo è possibile, è doveroso dar vita ad una nuova Taranto. La vivibilità urbana è al centro del mio programma. Vedete, il cittadino paga le tasse e pretende i servizi, paga le tasse e non deve correre il rischio di cadere e di farsi male. E soprattutto il cittadino pretende chiarezza, pretende sincerità da un sindaco, dall'amministrazione che il sindaco rappresenta. Non le falsità che Melucci ha raccontato e continua a raccontarvi. Le immagini tristi, vergognose del quartiere Bestat smontano e sbugiardano tutte le favole dell'ex sindaco Melucci. Grazie.